Ciao a PetX.it, nel pieno del covid, dell'anno del covid drammatico 2020, arrivò quest'estate che eravamo tutti abbastanza sotto a un treno e all'inizio di luglio vidi sotto il sole di Riccione, mi piacque da morire. Ho un ricordo molto bello come spesso è il rapporto con l'audiovisivo in relazione alla nostra vita, al nostro tempo, quello è un film fondamentale perché faceva vedere il mare, gli amori, baciarsi, rincorrersi a Riccione, c'era Enrico Vanzina che si incontrava con nuove generazioni di creativi ed era un film bellissimo, mi piacque da morire, era proprio quello che io voglio vedere al cinema, c'era una nuova generazione, come amano, come si rincorrono, come si abbracciano, come si desiderano, nuovi attori e la bellezza anche per noi romantici vecchi di vedere Enrico Vanzina pronto a fare da ponte, lui che aveva fatto grande cinema balneare con Sapore di Mare, come aveva fatto grande cinema invernale con Vacanze di Natale, in quei momenti prodigiosi per i fratelli Vanzina che sono i primi anni 80, benissimo, mi innamorai dei personaggi di Vincenzo, di Furio, di Giovani e Vecchi, era molto abitato, era molto popolato, ci sono molti meno personaggi in Sotto il Sole di Amalfi, il sequel necessario perché è bellissimo quel gruppo di persone, è bellissimo quel modo di fare cinema, anche se andò su Netflix e io lo voglio rivedere. E soprattutto è bellissimo rivederlo, perché è insito in quel tipo di progetto il rivederci, anche perché fino a che il mondo non finirà ci saranno l'estate, sempre più calde, però sempre più drammaticamente calde, però noi possiamo fare un film ogni estate e questo è stupendo. Adorai quel cinema, quell'impostazione, quell'ideologia. Adesso sotto il sole di Amalfi sono rimasti due gatti, sono rimasti Vincenzo, il non vedente Zurzolo fantastico, è rimasto Furio, l'amico suo Davide Calgaro, stupendo, un set rock in italiano, lo vedo ovunque, in una boccata d'aria ha dei siparietti con Aldo bellissimi e lo vedo anche in film drammatici, mi piace molto Davide Calgaro e loro sono gli amiconi. Il non vedente è molto in gamba, avrà esperienze di andare sott'acqua, girerà per le strade di Amalfi, è cresciuto lì, è molto autonomo, è un film importante da questo punto di vista e Zurzolo si porterà questo personaggio dietro nel tempo, assolutamente, ed è molto dinamico, molto costruttivo, pieno di energia e di positività Vincenzo. Nonostante smadonni pure perché vorrebbe andare a vivere con Camilla, a sua mamma che è Irene, che è Isabella Ferrari, che è ovviamente la selvaggia di Sapore di Mare che è proprio il corpo, simbolo di questo passaggio del tempo e sì, litigavano, adorabili, litigavano, adorabile l'incontro con Luca Ward, tra Isabella Ferrari Luca Ward e l'insultazione di Riccione, litigavano perché lui faceva il bodyguard, non la voleva far entrare, bellissima commedia sentimentale lì.